Il lockdown ci ha dato la possibilità di iniziare un progetto che già dal tempo avevamo nel cuore che è quello di l'evoluzione del fare enoteca come da sempre abbiamo iniziato. Ad oggi siamo un'enoteca dove rappresentiamo circa mille etichette diverse di vini dove ci sono chiaramente principalmente Italia ma prendiamo anche dall'Europa e da altri continenti. Questo abbinato ad una cucina che abbiamo appunto dopo il lockdown rifatto, ristrutturato con macchinari professionali e di conseguenza anche con professionisti. Quindi abbiamo messo in cucina Thomas che è uno chef emergente e affiancato alla sala a quello che possa essere un servizio giusto per quello che noi offriamo. La nostra proposta è un easy life, ovvero un light lunch appropriato per le persone che durante il giorno hanno poco tempo però vogliono stare bene. Nel pomeriggio abbiamo questi aperitivi che si possono allungare come si può bere solo un calice di vino accompagnato poi ad una cucina gourmet. Chiaramente la formula necessaria è quella del prodotto di stagione e quindi che abbiamo un menù spessissimo abbinato alle persone che in sala sanno rispecchiare e proporre ciò che è l'enoteca e ciò che è il buon mangiare. Anche perché la nostra selezione data da molta esperienza negli ultimi anni ha la possibilità di scoprire e di avventurarsi nel mondo dei vini attuale e nello stesso tempo con un buon rapporto qualità prezzo finale. Infatti le bottiglie che vedete diciamo all'interno della nostra selezione hanno lo stesso prezzo sia ad asporto che servito al tavolo. Questo permette sia ai nostri clienti sia anche a noi di poterci divertire insieme a quello che è il mondo del mangiare e del bere. Noi siamo pronti, la squadra è pronta, la cucina e le proposte sono pronte. Adesso tocca anche a voi venire a sperimentare la nuova faccia di quello che siamo con la nuova squadra. Vi aspettiamo numerosi!